Buon metà agosto ormai passato perché siamo al 17, 30 di conto novembre con aprile, giugno e settembre, di 28 ce n'è uno, ma agosto col cazzo che ne ha meno di 31, quindi siamo ormai oltre la metà perché 17 per 2 fa 34, buongiorno, 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 allora, 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 com'è questo Alchemy Blomburro? Lo che vi ricordo sarà un set di 30 carte che uscirà la prossima settimana, ora, abbiamo visto una carta finora che è quella che hanno spoilerato quando hanno fatto l'annuncio del qualifier timeless e dei deck comprabili, quella carta era molto forte per Alchemy, bisogna vedere se mantengono quel power level, io mi sono tenuto vergine apposta, non ho letto nulla, ho solo sentito che di questa carta ne hanno parlato in tanti, ok? Quindi iniziamo il visual spoiler da questa che tra l'altro è la prima per fortuna, leggiamola bene e cerchiamo di analizzarla, ovviamente Alchemy vi ricordo che è legale sia in Alchemy per l'appunto che in Historic, quindi attenzione che siccome Alchemy sappiamo tutti che attualmente non se la passa troppo bene, speriamo che migliori con questa espansione, Sarò molto focussato su Historic, ok? Quindi cercherò molto di arzigogolare per trovare delle soluzioni alle carte tramite il formato Historic Allora, Awistruck Cygnet, buongiorno, buongiorno mister, un mana 2-1 e siamo già forti, un mana 2-1 bianco e siamo già forti Poi ha Starting Intensity 0, è una creatura Uccello Scout Quando una creatura che controlli con volare entra, sul campo di battaglia ovviamente, se questa creatura è chiamata Awistruck Cygnet, le carte che tu possiedi, di cui sei il proprietario, chiamate Awistruck Cygnet, intensificano di 1 Quindi la loro Starting Intensity cresce di 1 Fintanto che questa carta ha intensità 3 o più, ha forza base e costituzione base pari a 5-4 Attenzione! A volare Vigilance e si chiama Radiance 1, quindi non può più prendere Starting Intensity nella maniera di prima Allora, questa è una carta che ha bisogno di se stessa per diventare grossa, in poche parole Grossa è forte, tra l'altro, perché è volare Vigilance comunque Ok, quindi però tu hai bisogno di altri due, no, altri tre pezzi come questo Per farlo diventare grosso Eh Sono tanti tre Sono tantissimi Ah no, l'oretta male, pardon Dice Quando una creatura con volare entra, se questo si chiama così perché dopo cambia nome Ok Quindi ogni qualvolta una creatura con volare entra, lei triggera Però non può triggerare più sopra del 3, altrimenti sarebbe fortissima, chiaro Carina Molto carina Cioè tu, se fai tre pezzi con volare, questa diventa un 5-4 Sto pensando in che mazzo potrebbe stare Ciao Sherry Sto pensando in che mazzo potrebbe stare Perché se la mettiamo In un mazzo che gioca solo volanti E quindi in alchemy, in questo caso stiamo parlando di Batbird Sì sì, ci arriva Mockingbird, male Se lo mettiamo in un Batbird Ha una carta forte Perché tu ha un mana potenzialmente Investi poi La presence Quindi il mana delle altre creature volanti Per potenziare anche lei In poche parole ha una passiva È come se prendesse un segnalino più uno più uno Al terzo volante Cioè un segnalino più uno più uno È come se livellasse senza livellare Tra l'altro Come mai l'hanno fatto? Cioè potevano farla cartacea questa carta Perché è facilmente replicabile Sì è facilmente replicabile in carta Non è la stessa cosa perché non è starting intensity Ma puoi farla funzionare con i segnalini, con i livelli In un sacco di modi È carina Ora Mockingbird è una soluzione Come proponete in chat Perché comunque copia se stessa Tra l'altro Quindi non solo a volare Ma intensifichi anche con questa Quindi dovresti giocare 4 di queste E 4 Mockingbird Però bisogna vedere se poi c'è qualcosa Che la accompagna ragazzi Perché non è detto Tipo in standard Perché penso all'ultima espansione Dove ci sono tanti uccelli volanti E Bat soprattutto E beh con i Bat non è messa neanche troppo male Anche perché se la fai ad esempio con il Bat che off springa Tu fai due pezzi ma valgono per due Comunque cioè lei lì conta entrambi Perché non dice quando casta Quando entrano È un buon drop a 1 Sì forse è il drop a 1 che manca in standard Tra l'altro lì come drop a 1 si gioca un volante Tra l'altro è un 1-2 lifelink O un 1-1 first strike Non mi ricordo Però lifelink sicuramente vola Potrebbe stare bene anche con questa Però al di fuori di Alchemy Secondo me non la vediamo da nessuna parte Quella carta qua Dal vocciare sembrava più forte Invece mi sembra un po' deludente Non penso che la vedremo mai in historic Men che meno in timeless Poi muore da orchetto in timeless tra l'altro Mi sembra una carta molto Molto normale in realtà Sì mi sembra una carta parecchio normale Ciao psycho Psycho killer Scusate Non vedo utilizzo al di fuori di Alchemy Sinceramente Perché possiamo giocarla con il mago 0-3 volante in historic Con Balmour Cioè abbiamo bisogno di questa? Non penso Non penso proprio Con i totteri Ecco con i totteri Zero mana gli tiri sull'intensity di 1 Se giochi anche lo spawn a totteri Eh Lì è già più interessante Cioè in questo È molto antisinergica in quel mazzo lì Però ipotizziamo no? Tra l'altro credo che siano legali entrambe In questo Alchemy Quindi forse la vedremo più in Alchemy questa cosa Non lo so Con lo spawn a totteri Tu fai un tottero ogni turno Che tira su questa E tra l'altro Con l'altro pezzo in campo È un Anche aggressore buono Però si ferma lì Cioè secondo me Non Non ha altre grandi sinergie Questa carta qua Ciao Mitch Vabbè Pensavo più forte Vediamo se la sinergia col tottero Ci sta Perché per il resto Mi sembra molto difficile La tirare su Anche perché comunque sono tre Cioè non sono due Sono tre Tre pezzi con volare Sono tanti Senza che l'oppo te la guarda Cioè l'oppo te la guarda e basta Non lo so Mi sembra un po' strano Poi Oh qui posso allargare un pochino Così la vedete anche meglio Allora Questo si chiama Cotton nail caretaker Allora Due mana due due Rabbit citizen Quando lui entra Scegli una creatura bianca Nella tua mano Perpetualmente guadagna Offspring uno Ah porca miseria Forte Forte questa cosa Attenzione che qua c'è una carta forte Questa è una carta carina eh ragazzi Allora Costa due 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 Ok sì Non è niente di eccezionale Il fatto è che Tu fai questo E poi dai Offspring a un pezzo Se il pezzo È un pezzo forte Eh A Gianni si flippa da solo Eh Eh Esatto Esatto Cazzarola A tre mana Ma si flippa da solo Questa è interessante ragazzi Minchia Questa è interessante tanto eh Sì Per essere una non comune Questa Questa ha delle interazioni molto Buone Ma al di là del Banale a Gianni Qualsiasi TB raddoppiato Qualsiasi Lord raddoppiato Ha un mana in più È buona eh questa Questa è buona ragazzi Questa è buona sì Bella Ho poco da dire Bella Un po' pericolosa Se alcune carte Non sono state pensate Con Offspring Il fatto di dargliele È vero Che Alchemy può usare Perché è only digital Però potrebbe essere Tanto forte Come cosa questa Bisogna vedere Molto interessante Molto interessante La immagino Su un due mana Faccio un token Quindi faccio creatura Token che fa Allora Creatura Il token della creatura Il token offspringato Della creatura E il token dell'offspring Mi sembra tanto forte Bella Per essere un uncommon Questa è molto molto bella Molto rompibile Tra l'altro Quindi Top Top davvero Poi Sandcloud Arbinger Due mana Scusate Tre mana Due quattro Elementale Cavallo Cosa c'entrano i cavalli In blomburro Adesso Vabbè Ok Quando entra Congiuri Tre carte Chiamate Sun Scorchet Desert Nelle prime Dieci carte Di ogni Grimorio In modo randomico Quando un giocatore Gioca un deserto Quel giocatore Pesca una carta E guadagni Tre vite Tu Guadagni tre vite Com'è il deserto Che congiura Perché è una carta esistente Il deserto Che congiura Adesso vado a vederla Sarà sicuramente Qua in fondo No Devo aprirla In un'altra scheda Lei Allora Perché sicuramente Ci sarà Non voglio Andarlo a cercare Perdonatemi Sono pigro No Non c'è E allora Andiamo a cercarla Come si chiama Sun Scorchet Desert Sun Scorchet Desert Sun Scorchet Desert Eccolo qua Ah è quello che quando entra Fa un danno Interessante Quindi Mi stai dicendo Che io a tre mana Faccio un ottimo bloccante Perché questo è un ottimo bloccante Tre mana Due quattro Congiuro Nelle prime Dieci carte Di tutti e due i grimori Tre Terre Quindi vado per forza O in mana Screw O in mana Flood Buona questa cosa Ciao Marco E poi Quando io O il mio oppo Gioca uno dei deserti Facciamo il danno randomico Ma soprattutto Io guadagno tre vite Mi sembra una carta Bella questa Questa è bella ragazzi E' strana Più che altro Più che altro Perché c'è Fable Pass Già anche Cioè tutti i shuffli Via i deserti Potenzialmente Se giochi questa E Fable Passage E quindi dai Praticamente Un malus ad oppo Perché Tre carte su dieci Saranno una terra Potenzialmente inutile Per lui Una terra Che ti ridà Due vite Interessante Però in historic Oddio In historic Può essere interessante Decide Contro No No Non credo Sì Allora C'è il fatto Che pescano Quindi In realtà Tu gli dai Tre terre Che lo fanno pescare Però Il fatto Che Possa farlo Anche tu Cioè Tu fai un deserto Peschi e guadagni Tre vite E' molto interessante Però Non vogliamo mai Fare vantaggio Dopo E' una cosa E' una carta Molto strana Oh C'è da dire Che con Narset Non ha sfighe Però Sono sinergie Strane Carta complessa Da valutare Questa Carta Molto Complessa Allora In historic No No In historic Assolutamente No Bisogna vedere Se interessa Per qualche motivo Ad alchemy Eh ma Non dà solo Vantaggio Adoppo Però Attenzione Ragazzi Non è Un vantaggio Solo Adoppo Perché tu Puoi fare Un mazzo Deserti Cioè Tutte le terre Che fai Poi peschi Non è brutta La carta Ragazzi Cioè Qui c'è scritto Quando giochi Un deserto Se tu Se tu hai solo Deserti Tu peschi Ad ogni terra E fai tre vite Non è così brutta La carta Mi sto prendendo Il tempo Per quello È molto interessante Questa cosa Qui Devo provarla In alchemy Non lo so I deserti Sono molto lenti Però Se tu hai Un mazzo Di soli deserti E hai in campo Questa Ragazzi È un bel vantaggio Quello che fai Se poi per caso Giochi qualcosa Che ti fa terra Addizionale Lo fai due volte Non lo so Gridi Io Secondo me È una bella carta Questa Secondo me È una bella carta Questa Sono on the play Che mi frega Che entrino tappate Questo poi Mi fa il vantaggio Che devo fare Se gioco Desert Landfall Non c'è niente Che con Landfall Triggera La 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 Lizard Secondo me Non è brutta Questa carta Secondo me Non è brutta Questa carta Ragazzi Bisogna E stare attenti A quella carta Qua Perché magari Non trova Gioco subito Ma è due Quattro Tremana Che ti fa Vita e vantaggio Carte Lo fa anche dopo No dopo Fa solo vantaggio Carte Non lo so Se è brutta Non lo so È da provare Secondo me È da provare Passiamo alla prossima È interessante Non Potrei Non lo so Può essere Può essere Che non veda gioco Però Nel mazzo giusto È una carta Di magic Attenzione Rara 3 3 Battalion Quattro Mana Istantaneo Quasi le prime Sei carte Tu rimorio Puoi mettere Una cattura Con costo di mana 3 o inferiore Tra esse Sul campo di battaglia Poi congiuri Un duplicato Di quella carta Sul campo Sono impazziti Ragazzi È meglio Di Collected Company No È più È più forte Di Coco Ragazzi Questa È molto Più forte Di Coco Porca Puttana Il duplicato Diventa Un token Offspring E fa Company Con doppio Pezzo Ma è forte Questa cosa Qua E flippa Gianni Da sola Ragazzi Il duplicato È un token Porca Trottola Questa è forte Tantissimo O non è token Il duplicato Perché è una Meccanica Non lo so Chat È token O non è token Il duplicato O è Considerata Proprio La copia Della carta Perché siamo In Alchemy Non lo so Eh ma non dice Copia Dice duplicato Quindi non è token Cioè Te lo puoi rimbalzare Eh No niente Se è una carta Vera e propria È cento volte Più forte Di Company Ragazzi È molto forte Questa carta Porca miseria Vabbè Cento per cento Gioco in Historic Cento per cento Gioco in Alchemy C'ho poco da dire È fortissima È vero Mister È vero Comunque Bomba 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 Ti fai due Resplendent Angel Ti fai due Ajani Ti fai due Valkyrie Complimanzi Tra l'altro Se hai l'energia Puoi girarla Con il Raptor Sì Deve averne quattro Sono tante Però sì Stai veramente Una bomba Fuori di testa Ragazzi Sapete che Bisogna Bisogna capire il mazzo Ma potrebbe essere Che questa sostituisca In tanti Mazzi Company Bisogna capire Quanto è più importante Fare due creature diverse Rispetto alla stessa creatura Sugli ETB E trovi una creatura forte Con l'ETB Questa è più forte di Company Però eh Molto più forte di Company Perché sono anche blinkabili Cioè Sembra tanto tanto forte Bomba terraria Bomba terraria Gift Gift a Ristic Study Ristic Study Ristic Study è quella che pesca Mi sembra Shuffle la tua mano Il tuo cimitero Il tuo grimorio E poi peschi sette carte Se il gift Se il gift Se il gift non è stato promesso Dai quello Tu fai effetto Narset Oppo no A Sorcery Allora Con Narset E auto win Con Narset E auto win Non so se vale la pena Giocare questa Però ragazzi Più che altro perché È comunque meglio Commit Memory Proprio per l'effetto Di commit Sì Sì è molto meglio Commit Memory Dai Non penso che vedrà Gioco in Historic In Alchemy Bisogna vedere se controllo La uole Non lo so Troppo difficile Dirlo così Su due piedi Non lo so Ranocchia Pool Resources Tremana Instant Gift un pesce Pesca 2 Se il gift è stato promesso Sicchi 2 Ah beh Fortissima Fortissima Questa carta Ragazzi Ragazzi Questa è fortissima Ah questa la giochiamo In UV Control Che ci frega È più forte di No ragazzi Questa è più forte Di Brain Surge Ah è molto più forte Di Brain Surge Cioè al 100% Dandogli un pesce tappato Io sicco Due non Non terre Se invece Mi servono le terre Posso pescare Mi sembra molto forte No 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 Questa è molto forte Questa è molto forte Anche perché Non sei più obbligato A pescare i Kalim Che ti ricongiuri Porca trottola Porca trottola Ciao Nembo Porca trottola Questa è forte Seconda carta forte Che troviamo Bella È bella È bella tanto Questa ragazzi Il fatto che abbia La variabilità Mi piace un casino Perché In Control Ti apre a due soluzioni E tutte e due Le soluzioni Possono essere utili Mi piace tanto Mi piace tanto Non saranno in standard Queste carte Mi piace tanto Bella Budget Bella Budget è bella Addio per sempre A Quick Study È più forte questa Bella Promossa Mi piace Variabile Mi piace tanto Mi piace tanto 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 Poi No Sì Shelf Sì Era giusto Shelfish Scholar Tremana Tre due Creatura Ratto Mago Quando Lui O un altro Ratto Che controlli Entra nel campo Di battaglia Congiuri Una carta Chiamata Tink twice Nel tuo Cimitero Tink twice È quella Con flashback Se non ricordo Male Vediamo Dovebbe essere Quella Esatto Quindi peschi Uno Ok A tre mana Puoi pescare Uno Dal cimitero Ok Se hai Tre Shold Le spell Che lanci Dal tuo cimitero In questo turno Costano due In meno Se lo tappi Attivi solo Ah beh Attivi solo Se hai Tre Shold Quindi Lui si Autocarica Tre Shold Con una Carta Che poi Puoi ricastare A zero mana Ah Pardona Un mana Fa cagare Ragazzi Bruttissima Orrida Brutta Tanto 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 Brutta Poi 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 Tempest Trapper Quattro mana Due Cinque Creatura Otter Mago Tappi Aggiungi due Mana In un qualsiasi Combinazione Di colori Spendi Questa Mana Solo per Lanciare Instant Sorcery Male Quando Lanci La tua Terza Spella Ogni Turno Esili Una Carta Random Dal Fino alla fine Del turno Puoi lanciare Quella Carta Cosa Senza Pagare Il suo Costo Di mana Allora Non Verrà Mai Giocata Questa Quattro Mana Però Tu A turno Cinque Con questa Vinci Eh Non lo so Se è così Brutta Cioè Se tu te la Difendi A turno Quattro In qualche Modo Non so Come Questa Ti fa Una spell Gratis Però Random Che Però Ragazzi Guardate Che nel Mazzo Giusto Fare Una Random Spell Gratis Dopo Che Ne Hai Già Fatte Tre Non è Bruttissima Come cosa Eh ho capito Che a caso Ma in un Mazzo Prowess Te ne frega Un cazzo Però Cioè Se hai fatto Prowess Ovviamente Non giochi Quest È troppo Gross Il problema Sono in Quattro Mana Ragazzi Non vi Focalizzate Sulle Allora Le carte Vanno lette In toto Ok Questa è Quattro Mana 2 5 Quindi Difende Da dio Ok Se non Viene Sparata È un Rampante Perfetto Per le strategie Che fanno Tante spell Ok Vanno lette così Poi Se Con il mana Che ti ha dato lei E sono due Sei riuscito a fare Tre spell Te ne fa una quarta gratis Non è da sottovalutare In toto Questa carta qua Con Fenice È fortissima Per esempio Il problema Il problema Il problema È che costa Quattro Perché Se avessi avuto Un costo Tre Questa Era fortissima Il problema È che Lo fai a turno Cinque È quello Il problema Vero Il problema Vero È che lo fai A turno Cinque Se avessi fatto A turno Quattro Questa Carta Era fortissima Sto pensando Se in qualche modo Riusciamo a farla Prima di turno Quattro Tipo Bird of Paradise Bird of Paradise Che me la fa di terzo Il problema È che Poi di quarto Devo chiudere È difficile Però peccato Due mana Sono tanti Peccato 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 Eh o se no Devi fare i tesori Però Siamo sempre lì È turno Quattro È il problema Quattro mana Non avesse avuto Quattro mana Era molto interessante Peccato 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 davvero Peccato Peccato davvero Devo bocciarla Però Non è ma Cioè Ce l'aveva il power level Se lo facevano di terzo Peccato Peccato Eh Sì RK Il problema è che Quattro mana Non avesse avuto Quattro mana Era una carta forte Cheatering School School speaker Due mana Uno Uno Squirrel Warlock Starting intensity Zero Quando entra Le carte Che controlli Chiamate Come lui Intensificano Di uno Come l'altro Ah però Questo è solo lui Proprio Ok Poi Peschi X carte E perdi X vite Dove X È la sua Starting intensity Quindi attiva Tutti i trigger Di lose life Gain life E ti fa vantaggio Carte Però devi Verne due Fa cagare Questa carta Ragazzi È bruttissima Questa carta Cioè Due mana Uno Uno Passo Ah no Ah no Perché lui Si autoconta Lui Si autocont Lui Si autoconta Non credo che si autoconti Ragazzi Si autoconta Quindi è un Due mana Pesco uno Perdo uno E perché dovrei Giocarla Fa la stessa cosa Del vampiro Fuori da una tribe Dove ci interessa Questa cosa Perché è Squirrel È un Due mana Uno Uno Pesco uno Perdo uno Non ci arrivi mai Grady È un Uno Uno A questo Due Ma il Secondo Allora Allora Quando si giudicano Le carte di Magic Vanno Lette in toto Ok Due mana Uno Uno Male Due mana Uno Uno Entra Pesco Perdo una Vita Bene Ha bisogno di altri Due mana Uno Uno Per fare delle cose Che tra l'altro Rischiano di ammazzarmi Perché triggerano entrambe No Quindi Se triggerano entrambe Io ho tre Di starting intensity Al secondo Pesco X Cioè Pesco tre Perdo Perdo tre E pesco tre Perdo tre Il secondo Non mi convince È troppo piccolo Ragazzi Fa cagare Pesco tre Perdo tre Quattro mana Come non abbiamo capito È pesco Ragazzi è da mezz'ora Che dico che è Pesco tre Perdo tre Con due Uno Uno Fa cagare Dov'è la difficoltà Nel dire che Quattro mana Pesco tre Perdo tre Fa schifo A turno tre Devo averne due In mano già Dov'è che Non abbiamo capito No Ho detto Pesco No È quattro mana Scusate Forse ho parlato male Quattro mana Pesco tre Perdo tre È bruttina Ragazzi Ma perché vogliamo Giocarle entrambe Perché se non ne giochi Quattro Non la giochi Punto Cioè gridi Che domanda è Perché Dove vogliamo Giocarne Entrambe Scusami E allora Cosa serve Giocare questa carta Teniamo lì E basta Cioè dov'è il dubbio Questa carta È questa Adesso ve la faccio vedere Vampiro Un decente motore di pescaggio No No Perché è un decente motore di pescaggio È il vampiro che si gioca in explorer Pesco uno Quando entra per di uno Peschi uno Solo che quello là si gioca Perché è vampiro In mazzo vampiri Questa la vuoi giocare in squirrel In alchemy In historic Dove la vogliamo giocare? Dove la vogliamo giocare? Sparate delle idee Dite che la carta è forte Sparate delle idee Vintage No Io sinceramente non la vedo giocata da nessuna parte Un midrange con scegliere i animi Certo Pesco uno Perdo uno Pesco tre Perdo quattro Maghi mi ha ucciso Prossima Capito Prossima Poi Poi Lifelink quattro mana Attenzione Quattro cinque Lifelink Quando un bor che controlli Attacchi Ogni Nolan card Nel Nella mano di un target Del giocatore di difesa Guadagna Quando casti questa Ma attenzione Quando casti questa Perde una vita Allora Le stats sono quelle di Shelly Quindi quattro mana Quattro cinque Lifelink Ci piace Quando un bor attacca Cioè lui stesso Beh Per Alchemy Potrebbe essere Buona Non so Cioè io questa Il fatto è che è una carta difensiva Che però deve attaccare Se vogliamo fargli triggerare l'abilità Eh ma farla su Timeless Dire animetro a T1 Se è troppo di meglio Ragazzi Il troll è più forte Non puoi fare Questa al posto di troll È quattro mana È quattro mana passo Contro il mazzo giusto Contro il mazzo sbagliato È quattro mana muro Lifelink Perché se sei contro aggro Ti piace questa È interessante in realtà A parte che Shelly Oldred Non c'è nel formato Quindi in Alchemist Con me questa ci sta Ecco Se mi dite Faccio questa Per andare a pescare Carte come questa Vi dico che avete ragione Perché questo Bene o male Ti può riprendere Lo svantaggio Che ti fanno loro Però sei arrivato A turno 4 E devi sperare Che non te l'ammazzino Non lo so Da provare in un orzov Probabilmente Da provare in un orzov Con sinergia Guadagno vita Però in istorico Non ci arriverà mai Dai In istorico Non ci arriverà mai Sanguine Sotseier Attenzione 2 mana 2 1 Flying Lifelink È già forte Quando questa attacca Congiui una carta Chiamata Sanguine Bond Ok Nelle prime 15 carte Del tuo Grimorio Random Perfettivamente guadagno Può guardare 0 Invece paga il costo di mana Di questa E quando questo permanente Entra Pesca una carta Porca miseria Ma Sanguine Bond Non è quello Non è forte Tra l'altro Sanguine Bond È infatti È Minchia Minchia Oh questo è for Ragazzi questo è forte Tanto Vabbè Fortissima C'ho poco da dire Ti mette una spell Che fa Win Condition A 0 mana Che quando entra Peschi anche una carta Quindi la auto Ricicla Fortissima 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 Questa la giochiamo In historic 100% Col nuovo Soarin Non c'è dubbio Ragazzi Fortissima Forte tanto Deve attaccare Sì Ma sti cazzi Cioè è comunque Un 2 mana 2 1 Flying Lifelink Va bene Anche contro aggro È buona Deve Al male che vada Si prende un botto Quindi va bene Ha già fatto il suo Bella 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 Mi piace Mi piace questa Questa mi piace tanto Promossa 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 Questa Come mai è così grande Questa Ups Come mai è così grande Questa Reduciamola un po' Tasteful offering 2 mana Sorcery Guadagni 2 Time Boon Quando sacrifici Una più permanente Ma com'è carina È forte Questa Ragazzi Quando sacrifici Una o più Permanenti Sicchi una Non terra E crei un food Gatto forno Scritto ovunque Questa carta qua C'ha C'ha scritto Gatto forno Ovunque Oppure A Gianni Bombardament Che cazzo Questa è forte Fortissima Fortissima Ragazzi Questa è veramente Forte Questa è forte Tanto Cioè tu Se la fai di secondo Di terzo Puoi scombare Con i mazzi Bombardamento Sacrifice No no è forte È forte È forte Questa è forte Sì Questa Ti enabla Tante cosine Ah Senza contare Che tu puoi Foraggiare Ragazzi Tu puoi anche Foraggiare Forte Molto forte Molto 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 forte No ragazzi No ragazzi Cosa significa Preferisci Food Tesoro Ma l'avete Letta Cioè Molto 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 forte È forte Sì Certo che è forte Certo Certo che è forte Certo che è forte Ma che se c'entra Preferisci Food Tesoro È gratis È gratis È due mana Gratis Ragazzi Ti ridai Ti ridai Due mana Che spendi Con due Carte Non frega Niente di Tesoro Food È gratis È gratis Ragazzi Sei sotto Di vite Sei sotto Di vite Cioè Ti dà anche Il food Per recuperare Le vite Che trigger Ha questa No ragazzi È forte Questa carta Qui è forte Dai Non prendiamoci Pericolo Questa carta Qua è forte Tanto Tanto Forte Ti manca Il forno Con il gatto Faccio Questa Faccio Miccio Mi Mi autosparo Il miccio Sacrificando Me lo pesco Sicco No è più forte Di Deadly Dispute Nel mazzo giusto Gridi Bravo Hai fatto proprio L'esempio giusto È molto più forte Di Deadly Dispute Nel mazzo giusto Perché ti autofa Le cose Senza pescare Quindi non hai neanche Il malus Di Orchetto E di Shelly Dai è forte Non diciamo cazzata È forte ragazzi Punto È punto Forte Punto E poi non comune Zio Pera Brave Midgard Due mana Uno Uno Quando lui Entra Attenzione che è topo Congiui una carta Chiamata Mic Ah Mic of the Meek È forte Con Valiant Quando diventa Target Di una spell Un'abilità Che controlli Per la prima Volta Metti un segno Più 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 Al due mana A me non piace Questa carta Ragazzi Perché dite Che è forte Due mana Uno Uno Passo Mind of the Meek La spell Un mana Sei topo Da trampole Peschi E più uno Più zero Perché dite Che è forte Questa carta Non entrerà mai In curva Al posto Dei drop A due Che ci sono Già No Ragazzi Non Non la voglio Mai giocare Questa carta Ci sono Già Troppi Top Più Forti Come drop A uno Hai sempre Droppino Uno Bianco L'altro Troppino Rosso Fortissimo A due C'hai Quello Con Prowess E quello Che Da Double Strike Non ti serve Questa Non ti serve Secondo me Non si gioca Però C'è da dire Che qui Non hanno Quello Che Trigger A due Volte O forse Si No Non lo so Se ce l'hanno Vado a vedere Non so Se in Alchemy Ce l'hanno Ancora Quel topolino Lì Vediamo Non lo so Davvero Su Controllo Alchemy Topo A due Certo Che ce l'hanno No Allora Non si gioca Non la giocheranno Ragazzi Ci sono Gli altri Topi A due Mana Che gli Mangiano Tutti i Posti Quindi No Carino Che ti dia Una spell Per triggerare I valianti Ma a due Mana Uno Uno E poi Ha bisogno Di spell Per prendere La seconda Non va bene No Non mi piace Neanche un po' Poi Charged Spellbook No Non c'è lo spellbook Qual è il suo spellbook Io voglio sapere il suo spellbook Sta carta è forte Allora vado a cercarlo Com'è che si chiama Charged Conjuration Charged Conjuration Spellbook Eccolo qua Qual è il suo spellbook Empty the warrens Quindi carta con storm Galvanic relay Tutte carte con storm E grape È forte C'ha grape shot dentro Ragazzi è forte Eeeh Bella sta carta Cazzo Questa è forte Quindi Tu La fai Fai le spell Il turno dopo Scontate Quindi ti avvii La stormata E quando è il momento La sacrifichi E vai a prendere Una spell con storm È molto interessante Però è anche Molto molto lenta Quindi secondo me In historic Non vedrà mai gioco Chissà se in alchemy Ha senso Grazie per l'ottavo mese Dan Grazie di cuore Grazie mille Chissà se in alchemy Ha senso È molto bello Che ti sconti Allora Allora Attenzione Potrebbe essere giocata Anche solo per l'effetto Statico che ha Comunque Perché se tu fai un control UR Tirare le spell scontate È tanta roba Ogni turno tra l'altro Le sconta sempre di più È interessante È interessante Non gli do un giudizio Devo capire se Con la variabile control È giocabile Se non è giocabile Con la variabile control Niente È troppo lenta Però questa è Decisamente interessante Eh sì Non può scontarle tutte MVP Se no era fortissima Però È un 4 mana Ne abbiamo giocati In standard Nei formati standard In passato È vero che è cambiato il gioco Però in passato Ne abbiamo già giocati Di spell tipo Assedio del monastero Di Khan of Tarkir Mi sembra che si chiamasse Una cosa del genere Che facevano Degli effetti statici Forti Sì Non c'è il flash L'artefatto flash C'è ancora Poi è blu quello Se non ricordo male Non so se C'è ancora in alchemy Vediamo E non c'è ragazzi In alchemy È uscito È È uscito Credo Sì confermo È uscito È da provare Questa carta È da provar È da provare È da provare È da provare Non gli dico no Ma non gli dico neanche sì È da provare questa Questa è difficile Valutarla a priori Se non c'è un mazzo conto Perché se c'è un mazzo conto A parte il fatto Che anche con Aist Non ti fa schifissimo Che sconta Le counter spell O le removal Non è bruttissima Vediamo Sospesa Può essere che veda gioco Qui sospendo il giudizio È difficile fare ora Una previsione Su una carta così Però ha sicuramente Delle cose interessanti Sicuro Poi Cinder con smite Un mana Fa due danni A un target creator Poi crei un threshold token Se non eri Lo starting player È fortissima Bella bomba Eh Eh so Sì non poteva essere instant Ragà Eh se era instant Era troppo forte Shock che ti fa treasure Mmm È bellina però Eh Ti recupera lo svantaggio Di essere on the draw Eh la signora qua Cioè Oppo di là Parte on the play Fa un 1-1 Parto io Faccio due danni Faccio tesoro Cioè passa Faccio È molto carina questa Secondo me si gioca Anche se non sei Lo starting play Il gridi Secondo me Si gioca lo stesso Te ne frega un cazzo Proprio È due mana È due È un mana Due danni a creatura È una removal Comunque Io Corriscchio La gioco In alchemy Questa Perché non hai Non c'hai Delle altre spell Quindi giochi questa In historic Dipende Dipende Ragazzi Eh Guardate Quella variabilità Se non sei Lo starting player Anche in historic Fare una terra in più Non è brutta Come cosa Sì è chiaro Allora Sono Mazzi diversi Shovaside è più forte Ragazzi Ma è chiaro Che Shovaside è più forte Però questa Però questa non è solo Rimozione È Possibile removal su un pezzo E crea un tesoro Che vuol dire Rampo 1 Non è brutta Se ti fanno Turno 1 Guida passo E tu fai turno 1 Questa ti tolgo guida Faccio un tesoro È più facile Che tu poi di terzo Fai a Gianni I più Botto per toglierlo Io non la scarto Questa Non lo so Non lo so Potrebbe avere Delle situazioni Molto interessanti Meno male Che non l'hanno fatta Instant Sennò è fortissima Ha troppi Downside Giochiamo A dei magic Diversi Ragazzi Un mana Rampo 1 Faccio removal A dei downside Ragazzi Che magic Giocate È un mana Lo fai Praticamente Gratis Ho capito Che è situazionale Ma quando sei on the draw È forte Non è situazionale No Regà Dai Allora Possiamo discutere Sul verrà giocata Sì o no Il power level Della carta Non si discute È una carta forte Se non sei il primo giocatore È una carta Forte Questa È esatto Ribery Ribery Esattamente Esattamente Secondo me Questa la proviamo In historic Perché i gatti Che si auto sparano A Gianni Non gliene frega niente Cioè Il fatto è quello Ci sono dei mazzi Che passano per il rosso Che usano la meccanica Sacrifice Ok Quindi se tu fai un tesoro Che triggera dei sacrifici Non fa schifo Bisogna vedere Poi Chiaro che Tre danni Su creature È più forte Va bene Non lo sta Non lo sta mettendo In dubbio nessuno Bisogna vedere Quel tesoro Quanto cambia Perché Se Se inizi a fare Vantaggio mana Rispetto a dopo Che è partito di primo Regà In certi mazzi È una roba forte È una roba forte In certi mazzi Avere un mana in più Peraltro Potresti giocarla Incer belcer Un mazzo a caso È Un mazzo a caso È cer belcer Regà Cioè cer belcer Che di primo fa questa E ti spacca L'uno o due dei maghi Ci c'è sui gumbet Cioè Mi sembra abbastanza fortina Come cosa A me Non fa schifo Secondo me Secondo me Un test Lo facciamo Con questa Un test Lo facciamo Con questa I gumbet Fabrizio I gomiti Lo dicevano I nostri nonni Ci c'è sui chess I gumbet Secondo me In alcuni mazzi Questa entra Però Regà Ma ci sono dei mono red Che giocavano Eh Com'è che si chiama Quella che esilia Perché esilia Scorcio Qualcosa Eh Eh Sì È vero Rivery Però Allora Ipotizziamo Ok Perché bisogna ipotizzare Non le abbiamo ancora viste Ipotizziamo Cer belcer Quando partono nel play È chiaro che non gli piace Questa carta Però Fa removal Ok A tempo brutto Ma fa removal E già io non la scarto On the draw Ti fa removal E ti rampa E tu fai cer belcero Un turno prima Io la provo Poi Sarà una merda Va bene Forse meglio Se non è una merda Però Eh Non è una carta brutta In alchemy Contro i topolini È molto buona Questa carta qua Io non la scarto A priori Una non common Così La voglio provare Esatto Esatto Fabrizio Esattamente Questa l'abbiamo già letta Questa è forte Tanto La rileggiamo Questa è forte Tanto 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 Questo è un 4 mana Non può essere Counterata 5-5 Trampol Quando un opponent Casta una non creatura Le creature Nel tuo grimorio Prendono perpetualmente Più uno Più uno Questa se il verde È anche lontanamente Giocato in alchemy Si gioca In altri formati Non lo so In altri formati Non lo so Sinceramente Questa è proprio forte Però in alchemy Se il verde Si gioca Poi Fountainport Charmer 3 mana 3-3 Offspring Uno Quando entra Cray Quando entra Le creature Nella tua mano Prendono perpetualmente Costa uno in meno Per essere lanciata Non si sa RK Non si sa Quindi io a turno 4 Faccio un drop A 5 Turno 5 Faccio un drop A 7 No Penso che non vedrà gioco Sì No Penso che non vedrà gioco Ragazzi Costa troppo 3 Purtroppo no Poi Traverse Valley Humana Sorcery Kicker Ok lo kicka Riforaggiando Sicca una non basica Se questa spesa La kickerata La metti su campo Di battaglia Tappata Quanto sei forte Quanto è forte Questa carta Vabbè Fortissima Vabbè Fortissima Ragazzi Ho poco da dire Fortissima Basta Fortissima Meno male Che non esiste In cartaccio 3 di queste Fai trono Beh Ci hanno pensato Quanto è forte Questa carta Secondo voi Cioè Ti fixi Ti fixi Domain A turno 2 Tutti i formati Tutti i formati Tranne standard Dove non è legale E Pioneer Fortissima Fortissima Sì La siccata è randomica Però Sti cazzi Sti cazzi Cioè tu ti togli una terra Che probabilmente Ti fixa il mana Mi sembra molto forte A me sembra fortissima A me sembra fortissima Ragazzi Fortissima Fortissima Cioè se hai tenuto Una terra Cioè una mano Con due terre Tipiche E questa È probabilissimo Che vai a farti Domain Basta che giochi Due triomi A me piace tanto Questa carta Poi il forage È una cosa in più Però Cioè quando puoi foraggiare E fai Un mana Siccuna Terra La metto sul campo Di battaglia Mi cojoni Fortissima Poi Eh no È la for È proprio quello Che è bella Perché è non basica Cioè con i triomi Voli in historic A me piace tanto ragazzi Bella tanto Tra l'altro Ti puoi anche andare A prendere fetch In timeless Non so se ti interessa Questa cosa Cioè se randomicamente Trovi una fetch Potrebbe avere Dell'utilizzo Non lo so Devo pensarci meglio Però la carta è forte Cioè su quello Non si discute La carta è una carta forte La carta è una carta forte Senza dubbio Sì Sì Esatto Prendi niktos Prendi quelle cose Oh porca puttana Ma c'ha ragione Onivo Ah È in mono G devotion E prendo niktos Oh cazzo Oh cazzo È fortissima Oh merda No pain Grazie mille Per il raidone Com'è andata La open Com'è andata Andate da seguire No pain Grandissimo Pain no gain Bravissimo Il limited lui Molto molto bravo Molto molto bravo Bella Oh Quindi dei due domani Bravo Bravissimo Come al solito Bravissimo Come al solito Regà Comunque questa è una bomba Allora Cioè questa Questa fai Turno 1 foresta Giochi solo niktos Come non basica Hai niktos Per forza In mano t2 Fortissimo Grande painone Grande grande Fortissima Basta Se già mi piaceva prima Adesso mi piace ancora di più Bella Bella tanto Poi Incantesimo Tre mana Vigoros farming Le leande che controlla Il campo di battaglia Stappate A All'inizio della twin step The top most land card Cioè la prima carta Verso l'alto Del tuo grimorio Perpetualmente guadagno Quando questa terra È tappata per mana Aggiungi un mana verde addizionale E poi È fortissima anche questa ragazzi Vabbè questa è fatta per alchemy Però Questa è fatta per alchemy Per forza Sì la prima terra Che ha in cima del grimorio È meglio spelung Che però non c'è Attenzione Perché mi sa che è uscito Spelungking in alchemy No? Aspetta eh Controllo Non mi ricordo La rotazione alchemy È strana No c'è spelungking C'è No allora sì È meglio spelungking Sì è meglio spelungking È meglio spelungking È meglio spelungking Sì sì Senza dubbio Meglio spelungking Certamente Sono d'accordo Sì No no è comunque Meglio spelungking Che pesca Sì 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 Senza dubbio Avete ragione Eh sì È per forza Meglio spelungking Poi Ace Flockbringer 3 mana 3 3 volare scout Quando casti una creatura Senza volare Congiù un duplicato Di essa nella tua mano Ah Il duplicato guadagna Perpetualmente volare Triggera solo La prima creatura Che fai Allora volare 3 3 Deve restare in campo Un turno Poi Se lancio una creatura Crea una coppia Di quella creatura Se non a volare La coppia però Ce l'ho in mano Un po' lenta È un po' troppo lenta È un po' troppo lenta È difficile No Secondo me Per ora Non vede gioco Poi se lo vedrà meglio Ma 3 mana 3 3 passo Attenzione Miticozza Miticozza Bookstone Decorate Dost 5 mana 4 4 Leggendario Rabbid Noble Convoke No Convoke No All'inizio Da Twin Step Se controlli Una creatura tappata Sicchia una non terra Permanente Con costo di mana X o meno O meno Dove X È il numero Di creature tappate Che controlli Mettiti quella carta Sul campo di battaglia Ma raga è fortissima Raga è fortissima È almeno 3 Sì È fortissima Sta cosa Serviva Convoke È uscita Della roba È uscita Troppa roba Da alchimio È uscito Cavaliere Forse Vediamo È uscito Cavaliere C'è Mara Però questo è forte Questa ti va A prendere Mara Praticamente Caputtana Ah però Attenzione Questa non la fai Di secondo Eh già Questa non la fai Di secondo È per i conigli Perché di secondo In convoca Questa non la fai mai Non la fai mai Di secondo È molto forte Come carta Sicuramente Molto forte No Ragazzi non la fate di secondo Perché non avete un drop Verde E tre bianchi E quattro bianchi Di secondo Potete fare Due bianchi E tre rossi Ma mai Un verde Un bianco E altri tre È x Però Sicuramente la fan Cioè Convoca rimarrà Perché c'è Mara Quindi Il modo di giocare Questa La trovano E si giocherà Sicuramente Bisogna vedere In historic Bisogna vedere in historic Se c'è modo Di farla di secondo Dunque Servirebbe Un Una creatura verde Che ti fa Un food O qualcosa di simile Un artefatto Spacchi l'artefatto Con un cool dot Fai un drop a uno Sì puoi farla di secondo Questa In historic Puoi Ok Bravo In historic Puoi Sì E in historic È forte In historic È forte Eh sì La proviamo Bisogna vedere Se è comunque Perché il fatto Che Attenzione È che però Se la fai di secondo Tu hai cinque cose Tappate Giusto? Quindi tu fai Un drop a cinque Gratis Eh mi sembra Tanto forte Però Ah no No Perché è randomico Cioè tu non per forza Fai un drop a cinque Potresti fare un tottero Potresti fare un tottero Potresti fare un tottero Eh sì Potresti fare un tottero Eh il problema è il less Esatto Esatto Il problema è proprio il less Potresti fare un tottero No Gridi Non è comunque vantaggio Se ti trova tottero Fai Sevi prima fare cavaliere Non è comunque vantaggio Bisogna vedere se il gioco Vale la candela Ragazzi Non lo so Non lo so Forse no Forse è comunque meglio Cavaliere Senza dubbio Non è neanche bisogno Di splashare il verde Cavaliere Sì dai È cento volte meglio Cavaliere È cento No ma ragazzi È più forte cavaliere Perché Questa poi si rimane sul field E lo puoi rifare Ma Cioè Perché prendersi un rischio Quando hai una carta Che ti trova per forza Due creature Non ha senso Prendersi un rischio Mettere un colore in più Quando c'è una carta Che fa la stessa cosa Ma ti trova Due creature per forza È più forte cavaliere Ma non solo è più forte cavaliere È comunque più forte Anche l'ossodonte Che ti potenzia la board Certo Quando fai questa E questa ti trova cavaliere O x È chiaro che è forte Però il rischio è tanto In convoxon Con tante le carte Con l'ess Eh non lo so In Yagmoth Sì Può essere Uno per In Yagmoth Ci può stare Sì Sì No Sì Sì perché ti trova corda Eh no Non può trovarti Perché è permanente Sì In Yagmoth Ci può stare In Yagmoth Ci può stare Sì Vabbè In Alchemy Sì l'abbiamo detto All'inizio Scaletto Stavamo Stavamo ipotizzando In historic Adesso In Alchemy Sicuro che si gioca Non c'è più cavaliere In Yagmoth Se è interessante Darkstar Bannisher 3 mana 2-2 Flying Quando entra Esili un target Non land permanent Con questo 3 o meno Controllato Un avversario Forte Quando lascia il campo Di battaglia Il possessore Di quella carta Sicca Una carta Che Sharak Cioè che condivide Un tipo Di Il tipo Con la carta esiliata Quindi non restituisce Pezzo E sicca Quindi se la mette In mano Ma vale la pena Giocare È un 2-2 No 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 mi dispiace Ma mi sa di no Sì È rianimabile Con Zoralin È vero Però vale la pena La domanda è sempre quella Vale la pena Perché 3 mana 2-2 Che però Se ci penso Anche Katara Era 3 mana 2-2 Rimuove Tutto Che costa 3 o meno In realtà Quindi Capisci Cioè Non c'è Shieldred In Alchemy Ok Però Bobbone Da Alchemy Non lo toglie È lì Che mi blocco Bobbone Da Alchemy Non lo toglie Brutal Katara Sì E il problema È quello Beh non ci sono Non c'è Ragazzi stiamo parlando Di Alchemy Non ci sono le Apparition Proviamo Non so Proviamo Non mi convince Troppo Non mi convince Troppo No Katara Non c'è Però c'è Volpe Dovrebbe esserci La Fox In teoria Vediamo Confermo Che c'è La Fox Eh Se la giocano Eh ma la Fox Ha flash Ragazzi È più forte La Fox Sì È più forte La Fox Sì dai È più forte La Fox Eh però Hai ragione MVP Però io la penso In curva Togliere Il tre mana Zoralin Per questa In bat Non lo so Non lo so Vabbè La proveremo Per bat Però Rimango un po' Titubante Magari è forte Rimango titubante Perché è tre O meno È quello lì Il problema Ostis Questa sembra Forte Ho letto Un attimo Le statistiche Di sfuggita Sembra molto Buona Ha quattro mana Quattro quattro Menas World paga tre vite Quindi a quattro mana Perdi tre vite Potenzialmente Lizard Warlock Non leggendaria Quando uno O più creature Che controlli Fanno danno Da combattimento A un giocatore Congiuo Una random Carta Dal suo Spellbook Quali sono? Quali sono? Sono Non c'è Eccolo qui Allora Blade Juggler Body Count Dead Reveals Tutte carte con spettacolo Light up the stage Drill Beat Buona Eh Skewer Madis Ah è Un bello Spellbook Anche un bello Spellbook È buono eh Vabbè sì Si gioca questa Dai In Lizard Non hai motivo Di non giocarlo In Alchemy Perché non dovresti Giocare un 4-4 Quattro mana Minacciare Che fa comunque Tre danni Sì dai si gioca Ha una statica Buona Penso che si giocherà Facile in Alchemy Se c'è Lizard E c'è Lizard Perché è uscita Con Blomburro Quindi sì Si può Bella Bella Sicuramente in Alchemy Sì Al di là di Alchemy Ingiocabile Poi Euru Archon Scrooinger Quattro mana Tre tre Leggendaria Creatura Squirrel Soldier Quando entra Quando entra Puoi foraggiare Se lo fai Con giù Una carta Chiamata Cheaterspitter Sul campo di battaglia Cheaterspitter È il Lo scoiattolino Se non ricordo male Forte No Sì Ah no È l'artefatto Che se sacrifici Un token Gli metti sopra Ah è quello Che crea gli squirrel Ok E poi li potenzia Con i segnalini Ok Carino Quattro mana Fai questo Più che Cheaterspitter Se foraggi Non è male Non è male Quando uno più Squirrel Gli controlli Fanno danno Come ti metti Un giocatore Poi sacrificare Un token Se lo fai Metti un Counter Su ogni Permanente Che controlli Chiamato Cheaterspitter Carino Però ti servono Tanti Allora Il fatto È che Tu devi Foraggiare Per forza Ed è 3-3 A 4 mana Quando entra Ti fa il value Di 7 Perché ti mette Su un artefatto Che costa 3 Che tu però Non puoi tappare Subito Se non hai Un'altra mana Però lui vale Per 4 Con Chaterspitter Perché è uno Squirrel Anche lui Quindi è un 4-4 A costo 4 Che ti fa anche L'artefatto Poi Se fanno danno Le creature Proliferi Quindi diventa Un 5-5 Oltre a fare l'or Diventa un 5-5 Mi sembra buona Come carta Cioè In Squirrel Ovviamente Quindi solo in Alchemy E solo se c'è Squirrel Non è brutta Fa tante cose Ecco Diciamo che fa tante cose Fa tante cose Se non sarà un mazzo Squirrel Stiamo parlando Del nulla Quindi possiamo Andare avanti Veloce Poi Altra mitica Indris Indris L'idrostatica Surge 6 mana 5-5 Leggendaria Creatura Otter incarnation Quando entra Congiuri una carta Chiamata Lighting Bolt Nel tuo grimorio Perpetualmente guadagna Storm Poi Shuffly Poi Shuffly Quando casti un instant Una sorcery Peschi una carta Carta da timeless Carta da timeless Questa vero Allora Intanto Sulle incarnation È forte Perché ti dà Due Incarnation E nablate Fury E quella blu Che non mi ricordo mai Come si chiama Cadossia Subdently E poi Ti dà un bolt In più nel mazzo Con storm E se casti un instant Una sorcery Peschi Cioè tu di secondo Fai questo In timeless Cioè se tu peschi Il bolt Che ti Che poi te lo puoi Tutorare Tra l'altro Che se peschi il bolt Di questa Quel bolt Lì è devastante Ragazzi Boh Sembra una carta Di magic In timeless Se la rianimi Se non la rianimi È ingiocabile È interessante Solo che è interessante Solo lì E solo con reanimate Perché se no Non puoi neanche Rianimare Le mie storie Perché è leggendaria È interessante È interessante Non c'è di meglio In quei colori qua È quello il discorso Cioè non c'è di meglio In quei colori qua E con questo effetto qua A me Non sembra Una brutta Carta di magic Turno 1 Fateless looting Effect E poi la rianimo A t2 Non mi sembra male Tra l'altro Mi rimane Un mana open Che mi fa Magari un instant E pesco anche Magari faccio removal Più pescata È interessante È interessante È sicuramente interessante Sì però la vedo solo lì La vedo solo Ed esclusivamente lì Boh Vedremo Non so Se timeless Deve usci a fare Un grixis Questa potrebbe Anche in monocopia Potrebbe essere Fai toxis Scarti a oppo Peschi 1 Mi sembra molto forte Mi sembra molto forte Ma solo lì Solo lì Poi Mitica 2 mana Leaf leap guide 2 mana 1 1 Creatura frog scout Vigilance Quando un'altra Creatura che controlli Entrano Lei prende Perpetualmente Più 1 Più 1 Tappi 1 La tappi Fai tornare Una creatura In mano Fa cagare Questa carta Ragazzi Bruttissima Imbarazzantemente Orrenda Poi Marshland Ordmaster 3 mana 2 4 Lizard warlock Quando lui E un'altra Lizard che controlli Entrano Lui guadagna Battlecry Quando Lui E un'altra Lizard che controlli Muoiano Fa effetto Targhetta Quindi fa effetto Vampiro 0 1 Cioè Fa una drenata Perdi 1 Guadagni 1 Forte Forte Per Alchemy È sicuramente Forte Per Alchemy È sicuramente Forte Sempre nel Mazzolizard Gli danno Un drop a 3 Un drop a 4 Sinergici Buona Molto Molto Forte Può prendere Più Battle Credo Di Non lo so Se è come Prowess Non lo so Non lo so Penso di no Mi sembra troppo forte Fa cagare la carta di prima Terminator Non serve a niente Un drop a 2 1 1 Che ha bisogno di una creatura Per diventare 2 2 Punto Questa è molto interessante Vabbè Il Lizard In Alchemy Si gioca al 100% Questa No Battlecry Dà più 1 Più 0 A tutte le altre Tranne che a se stessa Quando attaccano Interessante Questa Si Vede gioco Il Lizard Sicuramente Ragazzi Sicuramente Lo prende Doppio Battlecry Allora È rottissima Ragazzi È fortissima Se prende Doppio Triplo Quadruple Battlecry Grazie A caccia Molto Forte Allora Molto Molto Forte Allora Per Lizard Poco Da dire 2 4 3 mana Aggressiva Mi piace Mi piace Ragazzi Ma perché state Disquisendo Della carta Di prima Fa cagare La carta Di prima Cioè Di cosa Stiate parlando È 2 mana 1 1 A 2 Poi ha bisogno Di un'altra creatura Per pompare Lei la creatura Fa schifo Questa carta Ragazzi Perché stiamo Parlando Di questa Carta Ragazzi Ma è troppo Lento Come fa A fare Qualcosa Questa Carta Qui Forse Stata 2 mana 2 2 Ma 2 Ma 2 mana 1 1 Ragazzi Il Delmo Ha detto Che è il drop A 2 Più forte Di Alchemy È più lento Di Alchemy Non so perché Abbia detto così Come fate In comanda Non si può giocare Come fate Perché è forte Cioè dov'è Dove è forte Cioè 2 mana 1 1 Passo Faccio un altro pezzo Ok Diventa un 2 2 Ho fatto un 4 4 Sì Ma è 2 mana 1 1 Passo È 2 mana 1 1 Passo Ragazzi È 2 mana 1 1 Passo In affiniti E ingiocabile No dai ragazzi 2 mana 1 1 Passo Come fa ad essere Forte Cioè se Alchemy Si può permettere Di fare Un 2 mana 1 1 Passo Con tutte le Lizard E tutti i conigli Che ci sono C'è qualcosa Che non va Cioè Mi state dicendo Che Se io gioco In curva Lizard Questa è forte Io non sono d'accordo A me fa veramente Tanto schifo Questa carta E ho capito Ma Cioè Stai giocando Contro un Oppo Che ti sta guardando MVP Non lo so Secondo me Alchemy è più veloce Di sta cosa qua No ragazzi Ma sì Ma stiamo parlando Del nulla È un 2 mana 1 1 È un 2 mana 1 1 Ragazzi È troppo lenta Ragazzi Io non so Ve lo faccio rivedere Questa E Questa Prende Lizard Cioè Lizard ha Drop a 1 forte Aggressivo O drop a 1 forte Con l'handfall Drop a 2 3 2 Con ward Che fa danno Che se fa danno Potenzia le Lizard Drop a 3 questo E drop a 4 quello Ho il tempo Di fare 2 mana passo Secondo me no Però Spero di sbagliarmi Che sia fortissima A me non piace Poi Topo mitico Recruit instructor 2 mana 1 1 Quando uno più Topi Che controlli attaccano Drafta una carta Dal suo spellbook Quando diventa target Di una spellbook Di abilità Che controlli per la prima volta Niente uno crea Un 1 1 mouse Com'è lo spellbook Com'è lo spellbook Recruit instructor Allora Il cheeky house mouse È forte Davide fianstrike È forte Fider è carino Mable è carino Barghina è carino Embercliffe è buona Might of the mic Ma soprattutto Ignition Carino Questa è una buona carta Allora Il problema È uno Non puoi mai farla Di secondo Perché se la fai Di secondo Deve attaccare Un topo E tu fai pesco uno Ma non hai triggerato Un valiant Quindi la fai Almeno di terzo E o speri Di avere In mano Una spell a 1 Per triggerare Un valiant Oppure devi draftare Dal suo spellbook Una carta Instant Valiant E ce le ha Le abbiamo viste Prima Le ha Però vale la pena Grazie per il follow Anche alla Sula E a Egart Però vale la pena È complicato Mi sa di no Non è leggendaria No Non la giochiamo No Non la giochiamo Ragazzi È troppo meglio Il drop a 2 Aggressivo Con Prowess Sono troppo meglio Tutti gli altri Drop a 2 No Non penso Che la giocheremo Fosse costata 1 Ed era un 1 1 Poteva essere interessante Ma 2 mana 1 1 Non rapido Che non mi fa Triggerare I valiant Di secondo È da Embercliffe Però Però Nembo Non penso In realtà Sai Cioè Allora Non è Comunque Meglio Fare il drop a 2 Che da Double strike Che ti fa Triggerare I valiant Che hai fatto Di primo Perché bisogna Pensarla In curva Questa Perché se non La pensi In curva È Un po' Inutile È 2 mana 1 1 Parte Sfigata Per un mazzo Aggressivo No Parte Tanto Sfigata Per un mazzo Aggressivo Perché Non hai Gli slot Non hai Gli slot Nembo Hai troppe Creature Sono tutte Migliori Di questa Perché hai 8 drop 12 drop A 1 Sì 12 drop A 1 E 12 drop A 2 Sono 24 Non 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 Secondo me No No Sono troppo Troppo meglio Sinergici gli altri No No Secondo me Non Vogliamo avere 28 creature Sono tante 28 creature Sono tante 28 creature Sono tante 28 creature E cosa togli Per mettere Lui Nembo Non togli niente Raga È troppo È troppo Anche perché Aspetta un attimo Vediamo No Non togli niente Sì Ma è Secondo me Ti fa lo stesso Valore Che ti fa La terra No È troppo Sfigata Ragazzi Perché Allora Io ipotizzo Un turno Bello Di topi Turno 1 Topolino Che si potenzia Ed è un 1-1 Passo Turno 2 Devo Devo giocare Su quel topo Lì Se non gioco Subito Su quel topo Lì È inutile Quindi O faccio Qualcosa Che gli fa Triggerare Valiant O devo Fare Un altro Pezzo Aggressivo Che attacca E quindi Devo fare 2-2 Rapido O il 2-2 Rapido O quello Che da Double Strike Sono sempre Meglio Di questa Turno 2 A turno 3 Faccio Questa Devo avere Un mana Per fare Almeno Un'altra Triggerata Di Valiant A me Non piace È un 1-1 Ragazzi A me Non piace Pesca ogni turno Fa pezzo Ti può dare clava Sì E poi perdi È meglio Fare gitte Esatto Bravo RK Esatto È meglio Fare gitte Esatto 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 Allora Fosse stata 2-2 Rapida Sì Oppure anche 1-1 Rapida Sì Ma 1-1 Non rapida Mi perde Un po' Di spessore Poi Due mana Specifici Non ti puoi Neanche permettere Di aver tenuto Una mano Monoterra Contro Mirror Inside Metto 4 removal Metto Oppure Metto Eh No Beh Forse Non è rapida Però È un 1-1 Che blocca Anche male In Mirror Ragazzi Secondo me No Neanche In Mirror No Non mi piace Fling C'è ancora In C'è ancora In Alchemy Fling Vediamo Wilds of Eldraine Dovrebbe esserci No No Sì c'è No ragazzi Se c'è Se c'è la variabile Fling Non la giochiamo Questa No È troppo più forte La variabile Fling Non è Non è il motivo Di non potenziarti Il topolino Di secondo Ragazzi Se c'è la variabile Fling Giochi la variabile Fling Non giochi Solo topi E Non la promuovo Non lo so Nembo Non mi convinci Così Penso che Tirare su L'Earthfire Sia troppo importante O dargli Double Strike Di secondo E fare X danni Mi sembra Troppo più forte Di questa Poi Se vogliamo Giocarla Al posto Di un drop A 3 Nelle liste Che giocano Di un drop A 3 Sono d'accordo Perché È più forte Questa Della leggendaria Tremana Però anche lì Devi sperare Che nel combat Non ti sparino Il topolino Prima che attacchi E che tu Comunque Devi fare Un altro Valiant È quello Il fatto Il fatto È che Lei non Triggera I Valiant Non lo so Io Credo che Come drop A 2 Non se la giochi Con nessuno Degli altri drop Se togliamo Se esistono ancora Le liste Con i drop A 3 Possiamo Parlarne Però Per ora Vi dico di no Per ora Vi dico di no Resource Full Collector Tremana 3-3 Rapido All'inizio La tua Endstep Una random Non food Permanent Card Nel tuo Cimitero Perpetualmente Diventa Un food In addizione Ai suoi tipi Puoi Giocare Quella Carta Fintanto Che è Nel tuo Cimitero Tremana 3-3 Rapido Che ti fa guadagnare vita dal cesso O ti fa una rianimata Il turno dopo Sì Randomicamente Però se ne hai solo una Quella No capito Cioè Turno 3 Non so quante carte Hai nel cesso Avrai una creaturina Che ti è morta prima Con questo Quindi di per sé Ti ridà un rapido Se vogliamo Una monastri A caso Boh Boh È strana Non lo so Questa è difficile Da giudicare Lo può fare sulle terre Ma perché dovresti avere una terra Nel cesso Turno 3 Beh Fable Passage Se vogliamo Se ho fatto Fable di primo O di secondo Ce l'ho nel cimitero Vabbè Fuori da Alchemy Ingiocabile Cioè Stiamo parlando del nulla Fuori da Alchemy Quindi penso solo a Fable Passage Non lo so È arzigugolata Questa Non mi convince Non mi convince Ah perché Dici che Poi arriva nel cimitero Resta comunque Artefatto Allora Allora no però perdonatemi un attimo solo se controlli questo perché la carta guadagna che diventa un food e ha esili questo guadagni tre vite però l'effetto di you may play that card è del procione quindi se ti tolgono il procione non la rifai è dal cimitero giusto la leggo giusta la leggo giusta no ok fa cagare perfetto grazie allora fa schifo questa carta ragazzi allora fa schifo tanto perché se poteva avere una cosa interessante con fable passage il fatto che tu debba farla in curva tre mana per menare e non puoi fare terra addizionale basta mi ha tolto tutto mi ha tolto tutto l'interesse che avevo su questa carta qua perché tu non è che fai terra addizionale se la giochi fai solo quella e hai già fatto terra sicuramente di terzo non ho altro da aggiungere vostro onore penso che non vedrà gioco poi towt rattle due mana sorcery target opponent rivela ogni nolland card nella sua mano scegli una di queste esili quella carta bella con trishold questa spell costa uno in meno per essere allang... com'è e a che cosa serve? e a che cosa serve? e a che cosa serve questa? ragazzi aiuto cosa vuol dire che costa uno in meno generico e lei costa due mana specifici ah il ratto costa meno il ratto il ratto costa meno grazie grazie scusate ho saltato sicarato ok quindi due mana scarto esilio tra l'altro se ho trishold vado a prendere un topo un topaccio un rattaccio e posso lanciarlo pagando un mana in meno non lo farai mai trishold trishold non lo faremo mai ragazzi difficile fare trishold è il magic moderno questo va considerato due mana scarto uno esilio si i rattiforti ci sono però non ci arrivi a fare trishold sette carte sono tante boh non lo so non mi vengono in mente mazzi dove voglio giocare questa attualmente quindi per ora vi dico di no per ora vi dico di no se fai auto mill non è infattibile se faccio auto mill non ho bisogno di giocare un due mana esilio pezzo gioco la saga a due la classe a due che fa scarto non mi piace questa cosa qui va anche in antisinergia con droni in the lock in historic non mi non mi convince quindi tirando le somme carte che ci sono tanto piaciute allora aspettate che le chiudo tutte così faccio il recappone allora carte che ci sono tanto tanto piaciute questa molto interessante questa è fortissima fuori di testa questa molto bella questo decisamente interessante questa bella da provare questo sparo qua da provare vabbè questa era già bella all'inizio se il verde c'è questa è fuori di testa questa è veramente incredibile in nictos hai nictos gratis lui e vabbè tutte le lizard le lizard sono interessanti tutte e poi c'è questa per timeless da vedere il resto carte normali carte normali devo dire per ogni historic sicuramente giochiamo traverse valley la nuova company pool resources e bisogna vedere cotton mail perché potresti giocarlo davvero con a gianni interessante beh una bella espansione alchimi dai una bella espansione alchimi ragazzi spero che siano forti anche le carte che ho detto che non sono forti perché magari mi sbaglio e in realtà si giocano tante di queste carte sono 30 sono tante però una bella dai una bella espansioncina dai che c'è Grazie a tutti